Sì, volevo ringraziare gli organizzatori di aver pensato a me. Devo dire che ho accettato molto volentieri questo invito perché ritrovo dei vecchi compagni, ritrovo dei vecchi giocatori validissimi, ritrovo dei giocatori che hanno fatto la storia del calcio africano, italiano e europeo. C'è con molta fiducia che io rappresento la Guinéa. L'histoire del Maroc e la Guinéa non date d'aujourd'hui. E tutti conoscono l'histoire della Marche Verte. C'è un honneur per noi di partecipare a questa grande fête. D'abord c'è noi che vi ringraziamo perché voi non rende conto che è per noi il privilegio. D'abord c'è una fête per voi e io penso che tutta commemoration è importante a la souligner. E io credo che sia un honneur di trovare tra noi, dei vecchi, delle difficoltà della distanza, eccetera. C'è magico di essere là, già ce sarà una bella fête e è veramente una gioia di essere invitato a questo evento. Il Maroc è un paio di football, è un paio magnifico e è vero che ogni volta che ho l'occasione di venire, c'è magico. Quindi ci sarà la fête del football, ci sarà la fête del football marocchino prima di tutto. Ma anche se non posso giocare perché ho stato operato da una jambe a tre anni fa, è un po' maggiore, ma volevo essere là. Ho volevo partecipare per la mia presenza perché ci sarà bello e è sempre bello di vedere l'ancienne gloria, anche se non è più il livello di prima, io penso che ci sarà piacere ai persone. La mia presenza è un po' maggiore, un po' maggiore, un po' maggiore, un po' maggiore, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti